Lei nel libro Saggio Popolari Addio abbraccia le tesi, diciamo così, governative, esprime una critica serrata al vecchio modello cooperativo basato su una testa, un voto. Ecco, per quali motivi? È l'azione governativa che segue le nostre tesi, perché questa tesi, infinitamente più autorevolmente di me, è stata sostenuta per anni e anni in Banca d'Italia, l'ultimo da Mario Draghi, che è stata nell'ultima considerazione finale che ha fatto prima di andare alla BCE. Questa è una cosa, anche le polemiche garbate che ci sono state sull'argomento, non prendono conto di un fatto. E cioè che questa legge riguarda 10, 11 non mi ricordo più, banche cooperative. Le altre 27 non sono assolutamente toccate da questa. Lo potranno, forse in futuro, eccetera. Quindi, il discorso sulla cooperazione è un discorso che io veramente mi stupisco di questa polemica. Quando il rapporto tra i soci cooperatori e i clienti dell'azienda è di uno a mille, di uno a mille, quando il numero delle azioni dei soci cooperatori, rispetto, le società sono quotate in borsa e quindi accanto ai soci cooperatori ci sono le azioni prese in borsa. Ma di che cosa stiamo parlando? Senta, il sottotitolo di questo libro, presentato oggi alla Camera di Commercio, è Il futuro dopo l'abolizione del voto capitario. Ecco, che futuro dobbiamo aspettarci? Il futuro, secondo me, per le altre banche non le tocca, quindi il futuro dovranno evidentemente tenere conto delle difficoltà che hanno le banche in questo momento. Tra l'altro, da un lato, con problemi di sofferenza, con problemi di ratio patrimoniali che vengono richieste. Ma il problema vero è che le altre banche dovranno elevare le 10, che secondo me alla fin fine sono ben contenti di questo scossone, perché permette di giocare il gioco non in qualche modo con le mani legate dietro. Soprattutto per la ragione per la quale è stato fatto questo provvedimento. Ed è che per essere, adesso che c'è il meccanismo di supervisione europeo, si fa molta più attenzione a queste cose, e il fatto di avere delle banche che siano resilienti agli shock è diventato fondamentale. Allora, e cosa vuol dire essere resilienti? Vuol dire che se succede qualcosa di imprevisto, le banche devono poter andare sul mercato dei capitali, fondersi con altre banche, farlo rapidamente. Se hanno una struttura che rende questi processi molto lunghi, anche costosi, perché a quel momento lì sono nella posizione debole per trattare, perché hanno questo handicap e quindi questa cosa in realtà è a favore sicuramente del mercato, è a favore delle grosse banche e non tocca per nulla le piccole, le banche minori, le spirito cooperativo. Nessuno vuol dire niente contro lo spirito cooperativo, dipende se c'è, non c'è, alcune saranno meglio, alcuni, poi lì il confine tra la cooperazione e i rapporti collusivi è molto, a volte non è sempre facile da cogliere. E queste sono cose che si vedranno, insomma. Infine, questo saggio secondo lei vede vincere una tesi su un'altra? È un po' difficile dire, quando c'è una legge la partita è già finita prima, quindi non c'è un vincitore, un vino. È una tesi, se si riferisce invece alla battaglia di idee, alla contraposizione di idee, io credo che ci sia, ma credo che se vogliamo essere ottimisti e metterla nel buono, guardiamo da un lato che cosa devono fare le banche che sono toccate da questa legge, dall'altro lato vediamo che cosa devono fare le banche che non sono toccate e che devono trovare le une come le altre dei motivi di eccellenza nella loro forma, nella forma che gli è più congeniale.